il testo è tratto dal libro quaderni dal 1945 al 1950 di maria valtorta edito dal centro editoriale valtortiano l'apocalisse sesta parte ma giovanni tutte queste cose le vide le ante vide le vide nelle sette chiese di allora le ante vide nelle chiese d'ora delle quali le sette chiese di allora erano non solo verità ma figura e ante vide anche l'attuale orrore quello della negazione in troppi luoghi e in troppi spiriti e ante vide l'estremo orrore il tempo dell'anticristo tutto vide attraverso alla prima visione la conseguenza ultima è frutto della prima conseguenza per cicli di età si ripete sempre più crescendo più è cresciuta la chiesa anche questo è dolorosamente logico che sia perché il cristo è tanto più odiato e avversato dall'anticristo quanto più il suo affermarsi e trionfare nei santi cresce il corpo mistico vince le sue battaglie e l'anticristo aumenta la sua potenza e ne sferra di più atroci perché se cristo vuole trionfare come è giusto che sia l'anticristo anche vuol trionfare e la sua violenza cresce più il cristo trionfa per vincerlo e abbatterlo o non potrà cristo è il vincitore ma lo spera e lo tenta e non potendo avere la sua vittoria collettiva su tutto il popolo di dio si prende le sue vittorie individuali o nazionali traviando intelletti e possedendo spiriti trappando popoli alla chiesa le sette chiese da poco erano fondate e fondate da quelli che erano stati mandati a fondarle direttamente da dio andate ad ammaestrare tutte le genti dopo che come da divina promessa avevano ricevuto lo spirito santo che avrebbe ricordato loro ogni cosa e insegnato ogni vero in maniera da essere compreso ossia rendendoli capaci di intendere le cose più alte perché rivestiti di potenza dall'alto fossero capaci di essere i fondatori di una cosa così alta come il regno di dio tra gli uomini e ciò nonostante già l'imperfezione e anche più dell'imperfezione si era formata in molte di esse perché l'avversario o anticristo era già spiritualmente in atto e lavorava già per corrompere e distruggere le fortezze spirituali del regno di dio creare discordie fra le membra insinuare sottili eresie suscitare stolte superbie consigliare i vili compromessi tra coscienza e legge della carne e le restrizioni mentali odiose a dio il cui linguaggio è sì sì no no e tale vuole che sia il linguaggio dei figli suoi e fedeli raffreddare la carità aumentare l'amore all'esistenza terrena e alle ricchezze e onori materiali ecco i lavori dell'avversario instancabile nel lavorare per tentare di vincere dio e distruggere quanto egli ha creato approfittando di tutto quanto lo può aiutare fornito dagli uomini stessi per imperfezione propria o per reazione provocata da azioni ingiuste delle membra più forti verso le membra più deboli quanto è giusto dire va detto il mancare alla giustizia e alla carità e simili a miele celeste attirano le anime alla mistica arnia che le tiene fedeli provoca reazioni delle membra colpite dolore scandalo e anche sfiducia e separazione la chiesa è stata fondata dalla carità e carità perfetta dovrebbe sempre essere stata la chiesa è alimentata dalla carità e carità perfetta dovrebbe dare a tutte le sue membra anche e soprattutto alle minime e deboli per alimentarle e tenerle vive la chiesa ha avuto il comando di insegnare la carità ma guai se l'insegnamento si limita alla lettera invece di essere praticato nel suo spirito vivere nella carità per fare vivere gli agnelli in essa questo è il dovere dei pastori e se gli agnelli vedono che la carità è pretesa dai pastori e guai all'agnello che non dare verenziale amore spinto sino alla rinuncia del libero giudizio e della libera azione nelle cose buone e dio stesso lascia all'uomo anzi egli lascia ogni libertà limitandosi a dire ciò che è buono o non buono mentre essa carità è negata dai pastori agli agnelli che avviene che per un cuore che non si apre alle infinite necessità delle anime parlo dei cuori pastorali le anime si volgono altrove vanno a bussare ad altre porte e talora sono porte che si aprono ai bisogni materiali e danno pane vesti medicine consigli aiuti per trovare un lavoro per non essere cacciati di casa dal ricco duro di cuore ma anche che levano religione e giustizia dai cuori perché così avviene e per un pane una veste un tetto un aiuto a ristabilire la giustizia verso un perseguitato un'anima o più anime lasciano l'ovile il pascolo la via di dio e vanno ad altri pascoli e su altre vie materiali i primi anticristiane le seconde nel secolare sviluppo della mistica vite vi sono prodotte separazioni anche di tralci principali molte le cause di ciò e non tutte venute da spontanea ribellione delle membra ma anche da ribellione provocata da un rigorismo senza carità e da un rigorismo senza giustizia che impone agli altri di portare i pesi e essi non portano per questo israele conobbe guerre intestine e scismi per questo il popolo minuto seguì il cristo per questo ancora oggi delle membra si separano o quantomeno restano perplesse o cadono in scandalo osserviamo le sette chiese di allora quali le vide giovanni e quali le sentì giudicare dal giudice eterno vedremo in esse già in azione quanto poi e in forma sempre più vasta fu ed è in azione nelle chiese o religioni di nome cristiane ma non cristiane cattoliche le chiese separate si sono date una costituzione umana conservando della vera chiesa solo quello che a loro piaceva conservare per dirsi cristiane ma esser cristiani non vuol dire soltanto pregare il cristo predicarlo in qualche sia maniera non vuol dire esser ancor più rigoristi in certe cose dei cattolici veri pregare dio predicare dio esser rigidi nel servizio formalistico di dio lo facevano anche i sacerdoti iscrivi i farisei del tempo di gesù tra gli uomini eppure ciò non li fece salvorare eccezioni cristiani ma anzi li fece anti cristiani essere cristiani vuol dire far parte del corpo mistico appartenendo alla chiesa di roma come cattolici appartenendo al cristo col vivere veramente come egli ha insegnato e comandato di vivere altrimenti non si è cristiani di fatto neppure se si è cattolici per aver ricevuto il battesimo secondo il rito della chiesa di roma e gli altri sacramenti anche se non si è caduti e rimasti in colpa grave anche se non si è giunti a rinnegare la fede a far parte di sette condannate dalla chiesa o di appartenere a partiti politici pure condannati perché giustamente condannabili non si è cattolici veri cristiani di fatto quando non si vive la vita cristiana quando non si onora dio con culto interno vivo sempre anche nell'intimità della casa presente sempre anche nel lavoro intellettuale o manuale che si deve esplicare attivo sempre anche nei rapporti sociali che si devono continuamente avere con tutto il nostro prossimo più o meno congiunto a noi da legami di sangue o da rapporti sociali non si è cattolici veri e cristiani di fatto quando si pratica solo un culto esterno e formale per essere lodati o solo un culto interno per non essere derisi come bigotti o averne magari un danno materiale non si è cattolici veri cristiani di fatto quando non si cerca di praticare il più perfettamente possibile le virtù sino all'eroismo se occorre quando non si esercita quanto è detto completamento della legge la carità di cui sono altrettanti rami le opere di misericordia quando non si cerca di levarsi l'abito vizioso che è causa al peccare quando si pecca contro lo spirito santo dubitando della misericordia divina che perdona a chi si pente presumendo di potersi salvare da sé schernendo o negando le luminose verità della fede non soltanto quelle prime e principali ma tutto quanto è contenuto nel credo e definito dai dogmi antichi e recenti nutriendo invidia verso i giusti rimanendo ostinatamente peccatori e impenitenti quando si lede il prossimo nella vita o anche solo nella salute corporale o nell'onore quando si calpesta l'ordine della natura compiendo atti abominevoli e gli stessi animali non compiono con piena colpa perché non hanno la ragione e la coscienza primendo i poveri praticando usura di illecito guadagno sfruttando oltre misura colui che lavora e negandogli una giusta mercede quando si vive così si meritano i giudizi severi di gesù agli iscrivi parisei e mercanti del tempio come sarebbe opportuno che molto frequentemente nel vangelo dovrebbe essere il libro letto quotidianamente da ogni cristiano frase per frase meditando su quelle verità che danno la vita fossero letti riletti meditati i punti in cui gesù dice dove è verità di vita religiosa e dove è apparenza o menzogna di vita religiosa ed esaminare se stessi paragonarsi al fariseo e al pubblicano al fariseo e alla peccatrice alle vita e al samaritano buono sui ricchi che gettavano il supero delle loro ricchezze nel gazofilaccio e sulla vedova che vi gettava quanto aveva per vivere e vedere a quale categoria si appartiene e se si vede di appartenere alla categoria che ha solo culto esterno ravvedersi divenire veri discepoli del maestro veri figli di dio e fratelli al cristo ossia cristiani di nome e più di fatto perché altrimenti si avrà il nome di cristiani ma non si sarà tralci che egli alimenta si sarà tralci staccati e se anche non sono seccati del tutto perché una naturale tendenza al bene li fa agire da giusti sono però rami che si sono ripiantati da sé superbamente e hanno fatto una pianta a parte che dà lambrusca e non uva buona per tornare tale devono essere nuovamente innestati alla vera vite all'unica vera vite che permette ai tralci di portare frutti copiosi e santi questo sia per i singoli tralci individuali e per quelli formanti una vite a parte le chiese separate le quali per esser separate e per essersi date una costituzione loro propria ideata dal loro fondatore un uomo e non l'uomo dio non possono avere quella totalità di vita spirituale e soltanto l'appartenere al corpo mistico mantiene e che preserva da distacchi sempre più grandi non solo dal corpo in sé stesso ma dalla verità e luce che fanno sicura la via e dalla chiesa terrena conduce a quella celeste e che il non appartenere al corpo mistico produca decadimento anche dalla giustizia lo si vede più chiaramente che mai oggi la separazione si approfondisce perché alcune chiese separate non solo si limitano al non dare ossequio e ubbidienza al supremo pastore non solo si permettono di alzare le loro proteste quando il pontefice parla per l'ume divino definendo nuove verità non solo pur dicendo di voler servire cristo strappano a lui o tentano strappare delle creature che gli appartengono che sono del suo vile e che essi i separati tentano portare a loro ad altri pascoli dove non tutto e specie la parte principale è buono ma e ciò è mostruoso si pongono a celebrare la bestia l'anticristo e ad approvare le sue ideologie grazie a tutti grazie a tutti